Ah, l'alte di ce l'ottore. No, belle. Oh, è stato difficile sceglierle. Molto. Come erano tante, troppe? No, tutte belle. Non riuscivi a scartarne una... Quelle che abbiamo scartate alla fine perché non vedevi una tutto storto. No, belle. Bello, bello, bello. Grazie. Dai, da smettere. Wow, bello, sì. Ah, qua era la fase... Preparatoria. Sì. No, è un po' bello. Murali, poi anche quelli sono... Sì, no, sì. La parte centrale è spettacolare. No, abbiamo fatto bene a farle lì. Il posto è spettacolare, il posto lì dentro il bosco. Sì. No, ma poi state bene in tutto proprio, anche nel mangiare. Bello. Grazie, ragazzi. Grazie a voi. Sì. Bello, bello. Sì. Bello, bello. Sì. Sì. Sì.